E' tutto pronto, comincia il secondo tempo. Posizione ideale, l'arbitro dà la norma del vantaggio. Daya, altro tentativo. Di testa concede la tusce. Può scatenarsi sulla corsia. Vediamo cosa fa ora. Sta avanzando. Lo vede? Di frazione che terma tutto, scuma il tentativo avversario. Tifosi che protestano per la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Prova a sfruttare le corsie. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. E' in buona posizione. Buona riquezione qui. Intermento comodo della difesa. Conclusione intercettata. Ha spazio per andare. Palla allontanata dalla difesa, era un cross interessante. Tiro completamente fuori misura questo. E arriva il cartellino giallo. Giallo. Sì. Aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Daya. Arnold. Padoin. Palla allontanata, è pericolo scongiurato per la difesa. Ottimo senso della posizione. E' in buona posizione. Può metterla in mezzo. Ci riprova? Bravo qui a smarcarsi. Prova a sorprenderlo. Attenzione, ecco il gol. Pallone che entra all'incrocio dei pari. Davvero straordinario alla conclusione. E' un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Tackle con il pallone che termina dunque il fallo laterale. Ma li dà indietro del pallone al compagno. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Si è sbarcato. Pallone interessante. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Tocco di testa. Palla che scivola in pallone. Pallone laterale. Manovra interrotta dagli avversari. Arbitro che assegna la rimessa con le mani. Palla consegnata agli avversari. Può cercare il cross. Attenzione perché è pericoloso. Posizione ideale. Ottimo intervento difensivo. Buona l'idea qui. Manovra gestita male. Va via di fisico. Calcio d'angolo corto. Pallone sul fondo. Si ripartirà con il portiere. Palla in verticale sull'attaccante. Vediamo cosa inventa ora. Tackle pulito. Pallone riconquistato. Padoin. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Regalano palla agli avversari. La gioca profonda verso l'attaccante. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che si è spettato abbondantemente sul fondo. Nessun problema qui per il portiere. Non era facile colpirla al volo e far gol da lì. Mancano dieci minuti alla fine della gara. Ha provato l'anticipo sui difensori. Ma c'è la posizione di offside. Palla in out. Ci sarà la touche. La rimessa laterale. Bravo a intercettare il passaggio. Non che fosse difficile. C'è il rilancio lungo. Padoin. Palla giocata sugli esterni. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Daya. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Vediamo cosa fa ora. Lecce bene in una situazione pericolosa. Perdono palla banalmente. Occhio che guadagna metri. Può colpire da lì. Interviene proprio all'ultimo e salva. ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Ci saranno da recuperare due minuti. un minimo di due minuti di time. C'è Prestig ma difende palla E si chiude qui anche il secondo tempo Oggi Stefano si è vista una sola squadra in campo Una sola, 11 giocatori decisivi che hanno dominato dall'inizio alla fine E si chiude qui anche il secondo tempo La traiettoria verso il centro Attenzione perché è pericoloso Ecco il gol dell'1-0 La sbloccano subito Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 La gioca profonda verso l'attaccante Trova bene la profondità Vantaggio che comincia a farsi importante Due gol da recuperare ora per gli avversari E ancora presto però per cantare vittoria Eh si fa dura per loro Anche perché oltre a tentare di segnare Devono fare attenzione a non subirne altri In presa Non facile per quanto si è visto finora Ci riprova Bravo qui a sbarcarsi Prova a sorprenderlo Attenzione Ecco il gol Pallone che entra all'incrocio dei pali Davvero straordinaria la conclusione È un gol che mette il punto esclamativo Alla loro partita Alla loro partita Alla loro partita